Welcome back su Gagnagio Corsari, sempre io Ambro Oggi continuiamo le top degli aspetti che mancano più in la carta base Ovviamente vi ricordo che questo è stato fatto primo di Genesi Mutante Quindi prima del pack dei mutanti, prima di tutta la serie dei mutanti degli X-Men che ci saranno in questo gioco Marvel Champions Prima di iniziare a guardare gli aspetti giustizia, teorità e base Vi ricordo di iscrivervi al canale, così non vi perdete nessuno di questi video E questo è il sesto video della Marvel Champions Academy Una guida, una rubrica per nuovi giocatori e esperti Quindi andiamo a vedere la top 5 degli eventi, supporti e migliorie e alleati per questi aspetti Iniziamo la quinta posizione dell'evento che è So giocare So giocare costa una risorsa e un'interruzione eroe Vedremo che in protezione quasi tutti gli eventi sono interruzioni perché si attivano durante la difesa E dice quando un nemico lancia un attacco, prende meno 3 attacco per quella attivazione Molto semplice, lineare, gli diamo meno 3 attacco Altro evento, altra interruzione eroe Salto mortale Questo è uscito con il pack di Ghost Spider Difesa, quando stai per subire dei danni, previeni due di quei danni Se hai pagato anche le risorse energetiche, ecco qua la risorsa specifica di questo aspetto, quella energetica Rimuoviamo 2.000, c'è la trama principale Al terza posizione troviamo Di Niego Costa 0 Carta molto particolare, la prima nel suo genere Che dice che quando una carta potenzialmente sta per essere liberata Viene invece scartata Quindi rimuove delle carte di potenziamento dall'attivazione del criminale Secondo posto Ciò che non mi uccide Come vi avevo già anticipato negli scorsi video Ci sono carte che ci fanno ripristinare il nostro eroe Perché quando si difende viene esaurito Questo è un requisito specifico, quello fisico Ma cura due danni al nostro eroe e lo ripristina Quindi è molto interessante Al primo posto degli eventi Carta che mi piace un sacco Scarto laterale Una risorsa Interruzione Quando stiamo per subire i danni, preveniamo 3 di quei danni Se abbiamo pagato anche una risorsa energetica, facciamo un danno a un nemico Quindi va a pingare, come si dice in gergo, i diversi nemici Passiamo alle migliorie Quinto posto Ovviamente il giubbotto Il giubbotto della protezione che ci dà più una difesa Semplici lineare Secondo posto Miglioria che produce delle risorse energetiche Che sono quelle che ci servono Nervi d'acciaio Ovviamente questa è quella che serve più per gli eventi di difesa in assoluto Miglioria al terzo posto Abbiamo armatura elettrostatica Costa 1 E' una tecnologia Quando abbiamo difesa un attacco Infiggiamo un danno al personaggio attaccante Quindi come se avessimo ritorsione Quando difendiamo però Solo quando difendiamo Secondo posto non poteva che essere Barriere di energia Una miglioria a tecnologia Utilizzo 3 gettoni Ogni qualvolta subiamo un danno possiamo rimuovere un gettone Prevenirne uno e farne un danno a un qualsiasi nemico Quindi ridirezioniamo i danni E al primo posto Ovviamente supporto fortissimo Utilizzo 3 gettoni In fermiera di notte Questa cura un danno Che potrebbe sembrare poco Ma una cosa forte E che rimuove Anche gli status Dallo nostro eroe Molto molto interessante Prima posizione Invece Della top 5 Quindi la quinta posizione D Degli alleati Victor Mangia Costa 2 risorse Vero che ha 0 di attacco 0 di intervento Ma ha 4 vite E ha un'abilità particolare Riduce di 1 i danni Quindi contro i gregari Che fanno un danno Praticamente È invincibile Alla seconda posizione Rispetto Alla mia scorsa Top Pre-protezione Che era il primo posto Troviamo Iron Fist Ormai sono usciti Degli alleati Più forti Più forti anche Che un main costo Lui costa 4 E' vero che è fortissimo Stordisce Fa danni Quello che vuole Però costa anche 4 risorse Forse nell'economia Dei mazzi nuovi E' un po' tanto E quindi Scende alla quarta posizione Difatti alla terza posizione Troviamo una nuova carta Che costa solo 2 risorse Daredevil Daredevil Punto Non c'è nessun nome Non c'è nessun nome È un Daredevil Costa 2 risorse Ha 2 di intervento Con doppio danno Con seguente Uno di attacco Con un danno 3 ferite Ma cosa dice Dopo che Daredevil Ha il difeso Non attacco Fa un danno Al nemico Attaccante Quindi anche qua E' come se avesse Ritorsione Quando difende Contro i gari E' molto forte Seconda posizione Per Clea 2 risorse Uno di intervento Uno di attacco Quando viene sconfitta Viene miscalata nel mazzo Quindi si ricicla sempre Non c'è altro da aggiungere E al primo posto Un altro che si ricicla Ma in modo più efficiente Starock Starock dice che Quando lui subisce Esattamente i danni Per essere sconfitto Viene rimesso in mano Ha intervento 1 Con un danno conseguente Attacco 2 Con due danni conseguenti Quindi prima una volta Interviene L'altra volta attacco Attacca e interviene E così via Così almeno riprende Sempre in mano E si rimbalza E questa è la protezione Passiamo ad Autorità Eventi di Autorità Il quinto Posizione Segnale da adunato Costa 0 Che non è vero Perché Se scegliamo Un personaggio In qualsiasi Pila degli scarti Di un qualsiasi giocatore Paghiamo il suo costo E lo mettiamo in campo Quindi se giochiamo a multiplayer Possiamo mettere anche Quelli degli altri Molto forte Quarta posizione Comando In prima linea Questo evento Era molto più alto Nella mia scorsa classifica Ma anche qui Sono usciti gli eventi Che secondo me Sono molto più forti Come azione eroe Costa 2 risorse Scegli un giocatore Tutti i personaggi Con il giocatore Prendono più un attacco Più un intervento Fino alla fine della fase Al terzo posto troviamo Farsi forza Carta nuova Costa 3 risorse Requisito mentale Un intervento E dice Esalisci il tuo eroe Rimuovi da una trama La somma Dei poteri Basi del tuo eroe Quindi Se un eroe Hai 2-2-2-2 Rimuoviamo 6 minacce E questo è per le minacce Ovviamente La seconda posizione Abbiamo Quello per L'attacco Che si chiama Tutto per tutto Requisito Invece Energetico Esalisci il tuo eroe Infligge un nemico Danni Pari Alla somma Delle tue statistiche Fortissima Quindi se abbiamo Potenzialmente Una statistica O abbiamo Una statistica Molto alta Fa un sacco di danni A solo 2 risorse E al primo posto Ovviamente C'è la carta Che io amo Di più In autorità Che è questa Che costa 0 E si chiama L'unione Fa la forza Esaliamo Tot alleati Peschiamo Tot carte Come avete visto Io amo pescare carte In un gioco di carte Perché secondo me È una delle cose più forti E questo evento Fa proprio Al caso mio Ed è quello Che io reputo Più forte Dell'aspetto autorità Passiamo invece A supporti Miglioria New entry Al quinto posto Questa carta qua Che è il laboratorio RS Requisito Doppia Mentale Utilizzo tre gettoni Esorisci il laboratorio RS E rimuoviamo un gettone Scegliamo un personaggio Quel personaggio Prende più uno Le sue statistiche Di intervento Attacco Fino alla fine Della fase Quindi possiamo potenziare Il nostro eroe Che in combinazione Con gli eventi Che abbiamo visto prima Diventa molto forte Aggiungiamo un più due Quarto posto Per Squadra Di comando Questo è un supporto Con l'utilizzo Di raggettoni Come azione Possiamo Rimuovere un gettone E ripristinare un alleato Quindi se abbiamo Alleati forti Che non hanno Danni conseguenti Che hanno pochi danni Conseguenti Possiamo usarlo più volte Molto forte Terza posizione Per Addestramento Di squadra Questa carta Dà Più uno Ferita A ogni alleato Che noi controlliamo Quindi molto banale Però molto forte Perché fa Attaccare gli alleati Più volte Al secondo posto Una new entry Dell'ultimissimo Pack Chiarezza Di intenti Miglioria Davvero Davvero Forte Costa una risorsa sola Ascendiamo un personaggio Quindi può essere Sia un eroe Che un alleato Esauriamo la miglioria Facciamo un danno Al personaggio alleato E generiamo una risorsa Quindi se la mettiamo Su un eroe Abbiamo sempre una risorsa Fissa Ogni turno Ed è la risorsa Giordi Quindi possiamo usare La propria stessi cosa E al primo posto Non poteva che esserci Trischeglio La carta che Per un terrenomase È molto forte In una verità Ci fa aggiungere Il limite Di alleati Più uno Quindi possiamo controllare Fino a quattro alleati Andiamo con gli alleati Appunto Stinger Costa una risorsa Uno di intervento E uno di attacco Due ferite E anche lui Bara sul numero Di alleati Perché lui non conta Al fine di determinare I tuoi alleati Quindi con lui Possiamo avere quattro Contrischeglio Fino a cinque E quindi adesso capite Che l'unione Fa la forza Diventa molto più forte Quando iniziamo a pescare Cinque carte a turno Secondo alleato Quarta posizione Squirrel Al Gore Due risorse Uno di attacco Un intervento Un danno conseguente Due ferite Ma quando entra in campo Fa un danno A tutti i nemici Quindi può togliere Tutti i gregari a uno Tutti le pedine di Ultron E così via Altro alleato Che gioca contro i gregari Occhi di falco Quattro gettoni freccia Tre ferite Tre il suo costo Uno intervento Un attacco Quando entra un gregario Rimuove una freccia Un gettoni freccia Due danni a quello gregario Gestisce molto bene i gregari Seconda posizione Antwin Antwin Però questo E Hank P Costa zero Ma non è vero Noi possiamo pagare Fino a quattro risorse E mettere Le sue ferite Quindi vuol dire Che costa quattro Quattro ferite Ma anche due di intervento E due di attacco Molto Molto forte Anche perché possiamo giocarlo A uno A due O a tre In base Nel momento Della partita In cui ci serve Ovviamente Giocare a quattro È sempre più forte Però Possiamo anche giocarlo In modo variabile Durante la partita E al primo posto Una carta che io reputo Fortissima Maria Hill Maria Hill E ha due Costo risorse Due ferite Due interventi Con un danno Con un danno Con un danno Di attacco Con un danno 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 Ma dopo che è entrata In campo Ogni giocatore Pesca una carta Ovviamente Di multiplayer È fortissima Ma è forte Anche in singolo Perché comunque Si cicla sempre E queste erano Le carte di autorità Passiamo Alle carte base Vi dico già Che gli eventi Dei eventi base Non li ho messi Perché alcuni Sono o molto Troppo specifici O troppo blandi E meno interessante Rispetto alle altre Carte degli aspetti Come eventi Quindi partiamo subito Con la top 5 Delle migliorie Al quinto posto Troviamo Concentrazione Immediato È una miglioria Massimo 1 Per giocatore Che Esaurendola Ci fa scontare Di 1 Il costo della prossima Carta superpotere Molti eroi Hanno carte superpotere Questa ce le fa costare In meno Quindi tutti gli eroi Che giocano Con carte Denominate In grassetto Come sottotitolo Superpotere Questa carta Ci deve stare Dentro Fortissimo Al quarto posto Una carta che ho rivalutato Ultimamente Eccitazione di squadra È un supporto Che come azione eroe Esaurendola Ci fa giocare una carta Che condivide Una tipologia Un titolo Con il nostro eroe Di 1 Quindi per esempio Se Spider-Ham Cartoon E Web Warrior Le carte Cartoon E Web Warrior Giocandole con Esaurendola di squadra Ci fa scontare La prossima Magia Di 1 La prossima magia Ovviamente sì Scusami La prossima carta Che giochiamo Di 1 E Questa Può essere giocata Anche Sugli altri eroi Non solo sugli stessi Al secondo posto Troviamo Ovviamente Resistenza fisica Una risorsa Più 3 ferite Il nostro eroe Fortissimo E al primo posto Ovviamente Se guadagnata Non perché mi piace La tipologia Che adesso andremo a vedere Ma Perché è davvero forte Tuta Simbiontica 4 sul costo Di risorse Massimo 1 per mazzo Già il fatto che ci sia Massimo 1 per mazzo Dove spiegarvi La forza di questa carta La tua identità Riceve più 1 A ogni aspetto Dei suoi poteri base Più 1 È limite di carta in mano E più 10 punti ferite Ha un piccolo back draw Che ci dà una carta In contro in più Ma Tanto con tutte queste cose in più Che possiamo aggiungere Non è un problema Quindi Tutta simbiontica La miglioria Supporto più forte Basica Andiamo con gli alleati Il primo alleato È Ironheart Stesso discorso Di Maria Hill Ma un po' meno forte In multiplayer Un po' tanto meno forte 2 E il suo costo In risorse 2 ferite 1 intervento 1 attacca Dopo che è entrato in campo Peschiamo una carta Solo noi Ovviamente Rispetto a Maria Hill Che fa pescare tutti Però è basica Quindi possiamo metterla In qualsiasi tipo Di mazzo Al quarto posto Troviamo Venom Venom È Un nuovo alleato Che è specifico Della campagna Delle sinistre Intenzioni Ma possiamo giocarlo In qualsiasi mazzo Ovviamente Quando affronteremo Quella campagna Non potrà essere messo Nei mazzi Sei ferite Quattro su costo E risorse Due di intervento E tre di attacco Con un danno Conseguente Anche lui Ha un piccolo Bec droga Che ci trae una carta In più Incontro Vabbè Tanti simbioti Sono tutti così Che se ne frega Dopo che hai Che hai rivelato Una carta Incontro Infringiamo Un danno Al criminale Per ogni Numero Di icone Quindi E questa volta Conta anche Le icone Speciali Non solo Le icone Potenzialmente Normali Molto forte Quindi se giriamo Una carta Che ha tre icone Fa tre danni Ogni volta E lui subisce Un danno Quindi ogni volta Possiamo fare questa cosa Ovviamente Attacca anche di tre Quindi fa un sacco Di danni davvero E quindi Questo limita Moltissimo Il suo back drop Perché lo terremo In campo Uno o due turni E poi basta Andiamo Al terzo posto Con un classicissimo Mimo Tre risorse Uno intervento Un attacco Un danno conseguente Tre ferite Quando entra in campo Storrisci Un nemico Molto semplice Fortissimo Al secondo posto Troviamo Spider-Man Miles Morales Spider-Man Miles Morales A me piace un sacco Perché ha solo Il costo di tre risorse È molto variabile Può ricevere Più di uno Di intervento O più di due Di attacco Solo quando entra in campo E ha tre ferite Ovviamente Un danno conseguente Per ognuno Di questi Fortissimo Perché Può gestire Sia le trame Che Gregari O fare danni Al primo posto Non può che esserci La carta più forte Gli aliati di base Nick Fury Nick Fury È quasi un must-in In tutti i mazzi Quattro risorse Tre ferite Due di intervento Due di attacco Con un danno conseguente Dopodiché Quando lui è entrato in campo Possiamo scegliere un sacco di effetti Pescare tre carte Rimuovere Due minacce in una trama Fare quattro danni A un nemico Questo è quello che lui fa Molto molto forte Per di più Alla fine del turno Si scatta Quindi possiamo utilizzarlo Anche per difenderci Quindi fa Ci manca Il caffè Ottimo Bene Detto questo Queste qua erano le top Abbiamo finito le top Per gli aspetti E le carte base Come sempre Se avete dubbi Domande Proprietà Ansia Angosce Non siete d'accordo Con le mie top Avete le vostre idee Vi ricordo Di commentare il video Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti